Consegna dei diplomi all'aperto in piazza della loggia per i laureati magistrali dell'Università di Brescia, una vera e propria festa per gli ex studenti. Pierluigi Ferrari. La meglio gioventù bresciana, quasi 700 su 1000 laureati dell'Università Statale nell'anno 2016-2017, in piazza della loggia con parenti e amici per la consegna dei diplomi. Vedere Brescia così festosa in festa per tutti noi laureati è davvero una cosa bellissima. Si va a coronare un bellissimo percorso qua a Brescia e si conclude come si è iniziato, tutti insieme. È molto bello vedere tutti questi laureati, tra l'altro non credevo fossimo così tanti. Per il terzo anno la cerimonia con partenza dalla sede del rettorato, il corteo accademico con docenti e rettori, laureati magistrali in toga nera e tocco, distinti dai pendagli di colore diverso per ogni facoltà. Celebriamo il compimento di un percorso, ha detto il rettore Maurizio Tira, e un nuovo inizio. Ho iniziato a lavorare a settembre, subito dopo la laurea, e mi sto trovando bene. Ho già iniziato e mi aspetteranno poi i concorsi pubblici e si vedrà. Sono alla ricerca di lavoro, sto valutando le alternative e intanto la mia soddisfazione più grande al momento è la laurea, coronata poi con questa bellissima festa. Brescia, città universitaria, ha detto il sindaco Emilio Del Bono, che scommette su scienza e conoscenza 20.000 in tutto gli studenti tra Statale e Cattolica.